Vicepresidente, quanto è importante un evento come Volley for Business per una crescita aziendale come quella che si è prefissata a Blue Volley? È fondamentale, noi abbiamo bisogno di nostri sponsor e quello che stiamo cercando di fare è che i nostri sponsor per qualche aspetto abbiano bisogno di noi. Quindi li stiamo mettendo in contatto l'uno con l'altro affinché possano assieme trovare dei punti in comune per sviluppare tra di loro business che sia produttivo e che poi magari un giorno possono reinvestire nella pallavolo stessa. La parte sportiva è ovviamente preponderante, parliamo quindi della stagione che è stata e di quella che si aspetta la prossima, la società. La stagione che è stata è stata nel suo complesso positiva, non bisogna accontentarsi, è chiaro che le nostre ambizioni ci portano più in alto, non è facile, i budget continuano ad aumentare, le altre squadre continuano a rinforzarsi, nonostante questo rimaniamo ambiziosi.